Regione Toscana, il Consiglio regionale. Il Parlamento della Toscana parla di Arti, l'Agenzia regionale per l'impiego e l'occasione è l'approvazione del bilancio. L'Agenzia, ricordiamo, che opera in materia di mercato del lavoro tramite la gestione dei centri per l'impiego e il presidio territoriale delle politiche attive del lavoro in termini di progettazione, organizzazione ed erogazione degli interventi. L'attività dell'Agenzia è finalizzata all'erogazione di servizi per lavoratori e per imprese. Ascoltiamo del dibattito in aula quali sono le posizioni dei gruppi politici. L'Evidenza, innanzitutto, è che c'è un bilancio che cresce di circa il 19% e è una grande attività. Quindi, al di là dei numeri e di un bilancio in pareggio, abbiamo segnalato, la stessa dottoressa Cannoni, ci ha raccontato quello che è il lavoro che stiamo facendo, che la Regione Toscana sta facendo, e Arti in particolare, in questi primi mesi. Inizia una fase nuova, una fase importante per il lavoro e per la formazione del lavoro, perché grazie alla collaborazione con il Ministero del Lavoro e con Ampal, ma anche alle risorse che arriveranno nel Fondo Sociale Europeo, noi dovremmo avere attenzione e cura sui territori per incrociare la domanda e l'offerta. Il mercato del lavoro sta cambiando e bisogna essere capaci di incrociare le esigenze delle imprese e delle aziende con le esigenze dei lavoratori. Quindi una grande attenzione anche alla concertazione con le amministrazioni comunali, con le associazioni di categoria, con le associazioni sindacali. È un momento importante, quindi anche sui vari territori sono stati realizzati dei protocolli nelle varie province che mettano insieme tutti questi soggetti affinché si possa davvero calibrare sulle esigenze di ciascun territorio, che è sicuramente diverso rispetto alle varie province della Toscana, e quindi poter dare una risposta alle esigenze del lavoro, ma soprattutto creare corsi di formazione che siano aderenti il più possibile a quelle che sono le necessità dei lavoratori, ma anche delle imprese artigiane e imprenditoriali. L'Agenzia fa sicuramente un grande lavoro per tutto quello che riguarda le pratiche amministrative, che spesso i disoccupati o coloro che hanno lavoro stagionale devono fare. Si pensi al grande lavoro che sostengono ogni settembre, quando tutti i lavoratori stagionali vanno a farne la richiesta, e spesso si trovano appunto tutti questi dipendenti a trovarsi ad affrontare una grande quantità di persone con difficoltà anche logistiche per riuscire a soddisfare tutti i bisogni che ci sono. Da un certo punto di vista l'esigenza maggiore è quello di colmare il mismatch, cioè l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. E ancora su questo si fatica perché il problema è strutturale, non attribuibile ad arti. Se si pensa che in altri stati come l'Olanda, la Germania, si hanno quattro volte tanto i dipendenti per le agenzie dell'impiego, si capisce anche il valore che viene dato a questo tentativo di incontrare la domanda e l'offerta. E in questo la regione, a parte appunto mettere a disposizione del personale, altro non fa, perché c'è necessità di un dialogo costante con le imprese, cercare di rifare più formazione, formazione che venga ben individuata su quelle che sono le esigenze. La regione toscana da questo punto di vista non è tra le più virtuose. Un punto positivo da parte di Italia Viva, un'agenzia che cerca ovviamente di lavorare rispetto all'impiego, ovviamente del personale, la ricerca dell'occupazione, della prima occupazione, il ricollocamento delle persone, il tentativo ovviamente di migliorare la qualità della vita della persona e trova la parte nostra massimo sostegno, è la logica del lavoro che deve ovviamente nobilitare l'uomo e non quella dei sussidi, è il motivo per il quale noi abbiamo sempre e convintamente investito sulle politiche di arti, che sono delle politiche di carattere regionale, che però tengono conto anche delle impostazioni di carattere nazionale. Sicuramente l'arti è oggi un'agenzia regionale chiave, se non altro perché sono state investite sulle politiche sociali del lavoro tantissime risorse, si parla di 200 milioni da ripartire a livello regionale a partire dal piano della nazionale di ripresa e resilienza. Naturalmente tutto questo impone un monitoraggio attento rispetto a quello che è un costo, soprattutto che è legato all'aumento del personale, si parla in Toscana di circa 1.058 unità che verranno assunte nell'ambito del 2023. Ora, noi non possiamo pensare che il lavoro lo trova chi viene assunto in arti, perché poi questo diventa il paradosso e questo ulteriore paradosso può essere anche quello per cui oggi di fronte a una necessità di snellire soprattutto il rapporto tra domande e offerte, di trovare un raccordo molto spesso tra ciò che chiedono le imprese e anche un lavoro qualificato, perché non dimentichiamoci che in Toscana c'è anche l'emergenza del cosiddetto lavoro povero, ecco, tutti questi dati messi insieme ci impongono un monitoraggio costante e attento su come vengono spese le risorse, a partire dalla formazione e dalle politiche attive. E soprattutto, diciamo, oggi anche alla luce della riforma sacrosanta del delzio cittadinanza, si porrà davvero il tema di formare ancora meglio quei profili professionali che appunto oggi vengono richiesti dalle imprese. Per non parlare poi di tutto quello che è l'ambito dell'occupazione giovanile, del quale poco si accenna. Molto generica anche la parte sui programmi, vengono rifinanziati alcuni programmi, ad esempio che riguardano laboratori che sono stati colpiti da crisi aziendali, però è un settore che naturalmente meriterebbe una maggiore attenzione e, ripeto, anche un maggior monitoraggio da parte del Consiglio regionale. Quindi il nostro giudizio è un giudizio ad oggi negativo, soprattutto perché dovremo vedere da qui al prossimo futuro come le risorse verranno effettivamente spese attraverso un'attività intensa di monitoraggio. Il Consiglio regionale approva con un deciso sì unanime la mozione presentata dal Partito Democratico sull'emergenza abitativa. Ha colto un emendamento di Fratelli d'Italia che impegna la Regione a ricavare risorse per ristrutturare alloggi ERP. Ha provato sullo stesso tema anche un emendamento del Movimento 5 Stelle. Il tema del contributo affitti è un tema di grande attualità e il Partito Democratico, così come sta accadendo in tutti i consigli comunali, in tutti i consigli regionali, ha presentato la mozione Cina per chiedere al Governo nazionale di rifinanziare il contributo affitti e noi li abbiamo sfidati su questo. Li abbiamo sfidati chiedendo quali fossero le loro intenzioni. Se fossero quelle di sostenere la campagna elettorale che Elislein sta facendo in tutta Italia sul contributo affitti o se seriamente volevano fare una richiesta al Governo nazionale di finanziare questo fondo. Abbiamo presentato degli emendamenti, in sostanza abbiamo chiesto uno di riconoscere quello che il Governo ha fatto perché è vero che il tema del contributo affitti è importante va rifinanziato e Fratelli d'Italia lo sta chiedendo attraverso i propri sindaci uno su tutti Alessandro Tomasi a Pistoia di rifinanziare il contributo affitti ma va riconosciuto, se non si vuole fare campagna elettorale che il Governo ha fatto comunque dei provvedimenti per la lotta alla povertà la spesa alimentare, il bonus bollette quindi di riconoscere quello da una parte e dall'altra siccome poi il Partito Democratico ormai li conosciamo come si dice quando gli dai un dito prendono il braccio e ovviamente nella richiesta di rifinanziare il contributo affitto hanno pensato bene di chiedere al Governo nazionale anche che si accollasse la ristrutturazione di tutto il patrimonio dell'inizia residenziale pubblico toscano che in 30 anni di incurie e di cattive manutenzioni da parte dei loro sindaci oggi va recuperato perché molte di quelle case sono sfitte noi abbiamo chiesto giustamente che il Governo finanziasse anche questo tipo di intervento ma che su questo tipo di intervento comparticipasse anche la Regione Toscana perché la Regione Toscana che è la proprietaria di quel bene che è rappresentato dalle case popolari di tutta la Regione non può pensare che per colpa della loro cattiva manutenzione oggi le case popolari non possono essere assegnate arriva il Governo Meloni e finanzia tutto il Governo Meloni spero riesca a finanziare una parte di questi interventi ma una parte li deve finanziare anche il Partito Democratico la Regione Toscana e la fattispecie questo è andato a buon fine gli emendamenti sono stati accettati da parte del Partito Democratico e per fortuna l'Aula ha votato in maniera unanime questa richiesta perché tutte le forze politiche oggi concordano nel chiedere al Governo nazionale di rifinanziare il Fondo per il Contributo Affitti una mozione che abbiamo ritenuto doverosa perché in un momento di particolare difficoltà dopo la pandemia con l'inflazione a due cifre con il caro energia che sta minando il bilancio delle famiglie il Governo nazionale non ha messo nessuna risorsa per quanto riguarda uno strumento fondamentale per intervenire e attenuare il disagio delle famiglie in difficoltà vale a dire il Fondo per il Contributo Affitti che riguarda circa il 20% delle famiglie toscane il Fondo per quanto riguarda l'amorosità incolpevoli risorse per intervenire nella ristrutturazione degli edifici ERP che si liberano e vanno risistemati prima di essere riattribuiti e sinceramente non è stato sufficiente il correre ai ripari da parte del Governo con il reddito alimentare con il bonus bollette che per carità vanno bene ma le misure che noi rivendichiamo sono misure essenziali tant'è vero che anche le opposizioni poi hanno approvato questa nostra mozione che contiene una richiesta forte nei confronti del Governo di ripristinare risorse ai fini che ho appena enunciato e abbiamo anche richiesto un impegno alla Giunta regionale a valutare nel prossimo bilancio così come era avvenuto in passato di mettere risorse dedicate integrative del nostro bilancio per intervenire proprio nella ristrutturazione degli alloggi di risulta Allora intanto noi ci siamo mossi soprattutto con i nostri parlamentari per quanto riguarda l'amorosità, l'affitto, il sostegno assolutamente sì è un motivo nostro di dare il contributo ai nostri cittadini che purtroppo in questo momento il fondo non è stato sovvenzionato però il fondo ancora esiste e già questo è una cosa che ci lascia ben sperare e speriamo appunto che si arrivi presto a una soluzione per quanto riguarda invece la ristrutturazione delle case popolari intanto dobbiamo partire dal concetto che attraverso il PNRR sono arrivati 93 milioni soltanto per la Toscana dei quali 14 sono stati addirittura spesi per un solo nucleo che riguarda quello a Firenze in via dell'Accademia del Cimento con una spesa per ogni singolo appartamento di 110 mila euro ci sembra che sia una spesa decisamente molto elevata anche se si tratta di una ristrutturazione anche antisismica però con 110 mila euro sicuramente si potevano fare anche appartamenti nuovi ma al di là di questo abbiamo letto con piacere la notizia che il sindaco Nardella a Firenze ha investito 8 milioni per ristrutturare 500 appartamenti dividendo 8 milioni per 500 appartamenti sono 16 mila euro non credo e non so quale tipo di intervento si possa fare con 16 mila euro in un appartamento se vanno ristrutturati per cui ecco mi sembra che sia anche questa una notizia piuttosto più propagandistica che concreta e niente non ultimo mi sono permesso tempo addietro proprio in virtù delle difficoltà del dopo covid e di tutto quello che si sta passando adesso personalmente di aver fatto una richiesta ai nostri parlamentari da portare ai ministri di competenza l'istituzione di un miliardo da destinare non alla ristrutturazione ma alla realizzazione di nuove casse popolari credo che potrebbe essere decisamente una risposta importante perché in questo momento le difficoltà ci sono tante famiglie stanno facendo la richiesta e soltanto annualmente il 3-4% di queste richieste vengono esaudite per cui credo che dobbiamo assolutamente intervenire in questo modo spero che il governo anche in questa circostanza ci possa dare un aiuto però ecco le due emozioni andavano nella direzione sempre di andare a chiedere al governo quando invece ci sono anche delle responsabilità della regione e dei vari comuni ci sono due soluzioni una potrebbe essere non soluzioni ma sicuramente che possono aiutare uno è le nazioni di chi occupa appunto le case popolari e avrebbe l'opportunità di poter di poter comprarsela eventualmente e riscattare eventualmente questa la casa perché credo che quando uno ci vive da più di 20 anni o 30 anni poi si sente ormai si sente ormai casa sua la regione francese dell'Occitania nell'ultimo anno ha effettuato un'operazione per promuovere l'area compresa tra Tolosa Montaubon e Albi ribattezzandola come Toscana Occitana con una campagna sul sito della promozione turistica del distretto francese è intervenuta sul tema la regione toscana ritenendo che l'area francese sfruttava il brand toscana a fini turistici è quanto riporta l'assessore Marras nella sua in risposta all'interrogazione e l'area francese dopo vari contatti e stimoli cambierà il proprio nome sì una soddisfazione da parte di Italia Viva del mio intervento in consiglio regionale che segue l'iniziativa portata avanti dall'europarlamentare Nicola Danti per difendere l'identità toscana il nome della Toscana nel mondo è unico e come tale ci siamo mossi anche a livello diplomatico l'abbiamo fatto tramite anche del nostro assessorato e ringrazio Leonardo Marras perché siamo riusciti a far cambiare questa che poteva rischiare di essere un utilizzo fraudolento del concetto di Toscana una regione francese che non aveva nulla a che vedere con la Toscana ma che rischiava in termini di promozione turistica di fare una concorrenza sleale di fatto regione toscana il consiglio regionale